Il Comune di Pesaro, mi piace ricordarlo, investe oltre 10 milioni nel servizio 06 anni e dei politiche educative per tutte le bambine e i bambini di questa città. In questi anni abbiamo continuato a investire nella creazione di posti, ricordo che per l'anno scolastico 24-25 al centro, un po' di quelle che sono le polemiche di questi giorni, abbiamo già aumentato rispetto all'anno scolastico precedente la capacità recettiva di circa 30 posti. Questo significa che il Comune e l'amministrazione continuano a investire in quello che è il servizio 03 anni nello specifico e in tutta la prima infanzia. Siamo consapevoli che i bisogni della città e delle famiglie non siano quelli che corrispondono alla disponibilità di posti per il servizio NIDI e su questo continuiamo a investire. Bisogna però riportare alcune informazioni corrette che sono uscite sui mezzi stampa un po' deteriorate e rimaneggiate rispetto a quelli che sono i dati di realtà. Sto parlando delle liste d'attesa, è stata riportata una lista di attesa di 250 bambini, la verità è che sono circa 120 quelli che oggi non hanno posti all'interno della città, non significa che questo non sia un grande bisogno, una grande criticità del nostro territorio, ma su questo noi siamo più che consapevoli stiamo lavorando insieme agli uffici, la dirigenza e anche l'amministrazione comunale tutta per poter rispondere a questo bisogno. Sono anni, credo, che continua a chiedere alla Regione di investire, di concorrere a quello che è l'investimento da parte degli enti locali sul servizio 06 anni. La Regione, oltre a promettere dei soldi, dei fondi, questi 4 milioni di euro a fine anno, ancora non ha detto e specificato come i comuni possano programmare e utilizzare questi fondi. Non è stato segnalato la possibilità di aumentare la capacità recettiva, sono fondi vincolati alla creazione di voucher di frequenza e anche al prolungamento orario, su cui già stiamo lavorando per poterlo affrontare a settembre nelle nostre scuole. Io mi aspetto e aspetto dalla Regione una risposta più puntuale su quelle che sono le strategie regionali su supportare i comuni nell'arrivare al 33% di copertura in proporzione ai nuovi nati e alla disponibilità di posti, pesero oggi al 30%, quindi siamo leggermente sotto quello che è il primo obiettivo indicato dall'Europa, dobbiamo fare di più e vogliamo fare di più.